benvenuti in un nuovo video di quadricottero news oggi voglio fare una cosa un po rischiosa perché non è supportata ufficialmente il 25 aprile dji ha implementato la compatibilità tra il google 2 e gli integra con i droni della serie mavic 3 e il mini 3 pro non il mini 3 normale mini 3 pro una funzionalità molto attesa purtroppo però ha reso compatibile questa modalità soltanto se si usa il dji rc motion 2 quindi ufficialmente non sono supportati i radiocomandi nessun radiocomando è supportato per utilizzare i gaggle con il mini 3 pro e il mavic 3 inoltre quando vengono associati ai visori i droni hanno delle limitazioni ad esempio sulla serie mavic 3 e attiva soltanto la foto singola il video 4k 60 fps 1080p e però è attiva anche la modalità explore sia sul mavic 3 pro che dovrei provare nei prossimi giorni che nel mavic 3 che hanno lo zoom quindi a quanto pare è possibile fare lo zoom con il mavic 3 invece per il mavic 3 classic che ha solo una camera non c'è lo zoom del explore mode c'è la foto singola e c'è il video sempre modalità normale 4k e 1080p entrambi 60 fps fissi non c'è possibilità di cambiare discorso simile sul mini 3 pro dove però vediamo che c'è anche il 2,7k a 60 fps e c'è l'aggiramento levitamento ostacoli come possiamo leggere quindi se viene selezionato bypass l'ostacolo può essere aggirato normalmente oppure con la modalità elegante un vero peccato che i visori abbiano tutte queste limitazioni è anche un vero peccato che non si può ufficialmente usare il radiocomando in molti stanno chiedendo a dji di supportare ufficialmente radiocomandi ma io oggi voglio rischiare il drone e provarlo con i radiocomandi grazie a un trucchetto che è stato scoperto infatti se noi lasciamo spento il visore e decolliamo poi accendiamo il visore il radiocomando continua a funzionare funziona anche l'rcn1 anche se non colleghiamo lo smartphone l'importante è che tutto sia già stato associato quindi radiocomando con i mini 3 pro e anche i visori quindi se già in precedenza abbiamo associato questi tre componenti non dobbiamo fare altro che accendere il drone e radiocomando aspettare che siano collegati e una volta collegati decollare soltanto dopo accendiamo il visore ma facciamo la procedura con il dji rc che così almeno tutto è più chiaro però sappiate che si può usare anche l'rcn1 senza smartphone addirittura quindi arriviamo già con tutto associato precedentemente accendiamo il drone accendiamo il radiocomando quando sono collegati come in questo momento decolliamo e dopo accendiamo il visore infatti se accendiamo il visore con il drone a terra il visore si collega al drone e il radiocomando disabilita gli stick adesso ho acceso il visore tra poco vedremo che sul radiocomando e c'è fuori la schermata che ci avvisa che il radiocomando non è supportato e quindi gli stick non funzionano infatti se si prova a decollare come stiamo vedendo non succede niente perché c'è il visore collegato se però spengo il visore naturalmente si ripristina il collegamento video tra radiocomando e drone e gli stick tornano a funzionare come è normale che sia quindi in questo caso decollo e accendo il visore adesso ancora video di ritorno perché il visore non ha finito di accendersi ecco adesso si è acceso e gli stick funzionano non c'è il video di ritorno perché il video di ritorno è nel visore però il radiocomando funziona ed eccoci qua vediamo come si comporta i mini 3 pro con il dgi rc ricordando ancora una volta che non è una modalità supportata in effetti volando sul male me la sto un po' cercando sto un po' rischiando e quindi prima di fare la missione di volo devo verificare le condizioni di sicurezza voglio capire cosa succede quando il radiocomando si spegne oppure quando cade il segnale quindi imposto l'altezza del ritorno a casa automatico e verifico che l'impostazione rth sia fissata sul ritorno a casa quindi quando si perde segnale voglio che il drone ritorni sul punto di decollo e per questo è anche importante prima di decolare aspettare che il drone abbia agganciato i satelliti adesso mi porto in una zona di sicurezza nel senso che non voglio che mi atterri in mare nel caso in cui non ritorni a casa quando spengo il radiocomando quindi mi metto sulla sabbia così adesso spengo il radiocomando e nel caso in cui dovesse atterrare sul posto e non tornare a casa e non mi cade in acqua quindi lo posso recuperare però devo capire se sono effettivamente sulla verticale della sabbia no quindi vado un pochino più avanti tanto vediamo che il trasferimento dati è 25 megabit al secondo quindi adesso mi giro e spengo il radiocomando che ricordo il radiocomando non supportato satelliti agganciati sono 30 quindi ottimo vediamo cosa succede vediamo il simbolino hd sotto vicino al tempo che che resta di autonomia adesso procedo a spegnere il radiocomando ecco adesso ho spento il radiocomando vedete che rc non c'è più è scattato effettivamente la rth in questo momento il radiocomando è spento quindi io non ho nessun controllo sul drone adesso dovrebbe arrivare sulla verticale e atterrare però sappiamo che il drone atterra un po' sfalsato quindi riaccendo il radiocomando per prendere subito il controllo altrimenti c'è pericolo che cada leggermente sugli scogli e non sul landing pad ecco adesso ha acceso il radiocomando e quindi posso interrompere l'atterraggio automatico premendo il solito tasto del radiocomando qua dice freno perché intende l'rc motion 2 nel frattempo abbiamo anche visto che il transfer rate che adesso è 25 megabit al secondo quando ho spento il radiocomando è salito a 50 e quindi significa che con il radiocomando acceso c'è un abbassamento di transfer rate probabilmente perché appunto influisce anche il radiocomando sul radiocomando ha abilitato anche il tasto di selezione modalità quindi adesso seleziono sport vediamo a che velocità arriva velocità massima eccoci qua sono al massimo 15,5 metri al secondo tra l'altro guardate che fluidità che ritorno di video fantastico inoltre questo è un drone invisibile guardate queste due persone nemmeno si sono accorte che davanti a loro c'è un drone in overing tra l'altro a 50 centimetri dal livello del mare quindi anche questo è un altro test è vero che i sensori in sport sono disattivati però vedete che non ha nessun problema anche a così bassa altezza rispetto alla superficie dell'acqua anche se sarebbe da evitare dice DJI tra l'altro il ritorno di immagine è fantastico guardate che fluidità questo permette di condurre il drone anche in passaggi molto stretti anche se questo non è avata però permette di fare questo e se si dosano gli stick si possono fare manovre interessanti in questo momento l'orizzonte è stabilizzato ma si può anche volare in modalità fpv con il gimbal che si inclina però bisogna selezionarlo in partenza dal radiocomando perché se lo cambiamo dal visore non è attivo comunque guardate che tipo di riprese si possono fare la gente non lo vede e soprattutto non lo sente se in questo momento io avesse avuto avata tutte queste persone si sarebbero girate e si sarebbero accorte del drone adesso sono in modalità sport e guardate che passaggi rasenti riesco a fare e quindi è un'alternativa ad avata per quanto riguarda le riprese aeree a bassa velocità perché più di 15 metri al secondo non possiamo andare però può dare delle grandi soddisfazioni per chi fa montaggio video e alterna video da terra a video di volo soprattutto per fare riprese a queste altezze così basse che con un drone è normale ma soprattutto con lo smartphone o comunque guardando un display è difficile farle con precisione proprio perché non abbiamo l'immersività del visore tra l'altro in modalità n sono anche attivi i sensori evitamento ostacoli in questo caso io l'ho settati su frema però vedete che mi segnala l'altezza da terra in questo momento immagini così con l'rc motion 2 non si riescono a fare facilmente come invece si riescono a fare con il radiocomando anche perché con il motion 2 l'orizzonte non è stabilizzato qua invece abbiamo la possibilità di mantenere l'orizzonte stabilizzato la fluidità del video permette di condurre il drone è fantastica sullo smartphone o sul display non abbiamo questa fluidità con il mini 3 pro abbiamo un video con più scatti qua invece abbiamo i 60 fps del video di ritorno ma anche del video registrato comunque soprattutto del video di ritorno e in modalità n normale abbiamo l'ausilio dei sensori guardate come mi segnala l'altezza da terra e quindi un'ottima cosa guardate anche sull'acqua come si comporta bene non da nessun problema normalmente se io avessi lo smartphone non mi azzarderei a fare questo passaggio così radente perché tra riflessi tra la luce ambientale e eccetera e il video che magari non arriva così fluido anzi se non arriva sicuramente così fluido non avrei la sicurezza che invece mi danno i visori e questo ritorno video che ripeto è assolutamente ottimo peccato che il radiocomando non è ufficialmente supportato speriamo che DJI cambi idea perché è assolutamente un'alternativa ad Avata quando si fanno video stabilizzati non video fpv veri però per i video per i passaggi così che si alternano a immagini da terra è un'ottima cosa se con Avata vogliamo tenere un video così stabilizzato con l'orizzonte è difficile da fare perché interviene la stabilizzazione elettronica qua invece tutta stabilizzazione meccanica e quindi non c'è nessuna nessun degradamento della qualità immagine e tra l'altro il mini 3 è talmente versatile che mi permette di fare queste cose vedete sono a 50 centimetri da terra anche con Avata è possibile però con il mini 3 pro è più semplice onestamente se poi consideriamo che è un drone che si può pilotare senza cosiddetto patentino e può sorvolare anche persone non informate è assolutamente versatile e quindi top insomma per alcune cose può far paura ad Avata come ho detto bene grazie per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa nei commenti e speriamo che dji abiliti la possibilità ufficiale di usare i radiocomandi questa modalità è inutile che ve lo ricordo non è ufficialmente supportata quindi se succede qualcosa la garanzia non risponde non risponde nulla nemmeno l'assicurazione secondo me perché non è una modalità ufficialmente supportata dal costruttore sapendo questo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti grazie per l'attenzione iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto